Di Maio che balla, Gasparri smemorato, Puglia ostile per calenda e Casellati che saluta. Eccoci al bestiario elettorale. Primo, i veri furbetti sono quelli della poltrona. Vi ricordate i parlamentari furbetti che avevano avuto il coraggio di chiedere il bonus Covid durante la pandemia per poi accampare mirabili scuse su errori dei loro commercialisti e tutte quelle storie lì? Bene, il leader della Lega Salvini si era scagliato giustamente contro di loro promettendo che non li avrebbe più ricandidati. Promessa rimangiata. I falsi sospesi sono stati ricandidati eppure in collegi blindati. Andrea Dara corre all'uninominale per la Camera in Lombardia. Elena Murelli promossa al Senato e candidata all'uninominale in Emilia Romagna. E seconda in lista al plurinominale. Addirittura tripla candidatura al Senato per Marzia Casolati. Uninominale in Piemonte, capolista in seconda posizione in altri due collegi piemontesi del plurinominale. Sono passati due anni per dimenticare quella che Salvini definiva come una vergogna. Il deputato Marco Rizzone invece è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Sentite qui. Rizzone, protagonista dell'alleanza giallorossa in Liguria, è stato cacciato dal Movimento per aver preso vergognosamente il bonus Covid da 600 euro. Molto bene, gli elettori manderanno a casa il resto della ciurma, attaccava senza giri di parole il presidente della regione Giovanni Totti. Rizzone, comunque, alle politiche sarà candidato. Sapete da chi? Proprio la lista di Giovanni Totti. Hanno la faccia come il culo. Poi, Di Maio come Dirty Dancing. Tra le immagini che non dimenticheremo mai ci sono quelle di Luigi Di Maio, che viene sollevato in aria dai camerieri della trattoria da Nennella di Napoli sulle note di Dirty Dancing. Il Patrick Swayze della politica italiana è passato a trovarci. Ha scritto ai proprietari della trattoria sul suo profilo Instagram. Sicuri che sia un complimento? Perché da qui fuori sembrava un'eterna adolescenza. Lautamente pagata dai cittadini. Poi, date il lettone Gasparri. Sentite qui. Nella storia i contributi da Mosca arrivavano nel Partito Comunista. La sinistra, quando teme la sconfitta, solleva polveroni. Non bisogna inquinare il voto con teorie ostruse che fanno male che le pronuncia e che danneggiano l'Italia. I cittadini devono votare liberamente e senza condizionamenti. Noi di Forza Italia siamo garanti di una posizione occidentalista e di appartenenza alla Nata. E tutti i partiti del centro-destra hanno votato per le sanzioni della Russia per inviare armi all'Ucraina. Lo dice il senatore di Forza Italia. Maurizio Gasparri a Rai News. Qualcuno gli dica che nemmeno il PC ha mai avuto il coraggio di farsi regalare un lettone. Poi, Puglia ostile per calenda. Una giornalista del giornale lancia la notizia falsa di un direttore generale di un ente pubblico pugliese che avrebbe precettato i suoi dipendenti per un evento elettorale del PD. A testimonianza la presunta giornalista pubblica un messaggio che appare tra l'altro chiaramente come inviato e non come ricevuto. Ci cascano esimi professori universitari, ci casca tutta la schiera dei competenti e ci casca ovviamente la mascotte dei competenti. Carlo Calenda, leader del sedicente terzo polo, che viene che vada sarà al massimo il quarto, tuona contro Letta annunciando addirittura un esposto. Letta, da canto suo, fa presente che la notizia è falsa e che sono già partite le denunce. Intanto, in Puglia, essere condannata sul serio, come dicono loro, è la terza polista a Bellanova per pagamenti irregolari a un collaboratore. Non male, eh? E infine, tempo di salute in Senato. La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, saluta i senatori in quella che potrebbe essere stata l'ultima seduta di questa legislatura. Vorrei ringraziare tutti, dice, perché pur in una legislatura difficile ho sempre sentito il sostegno di voi tutti. In effetti è stata dura, Presidente Casellati. E come? Grazie.